Buongiorno, sono Giovanni Eleuranti, un attore di 60 anni, nato a Reggio Emilia, vivo a Rieti. Ho sei figli, sono alto 1,84. Ho lavorato con registi come Pupiavati e Sidney Sibilia. Con Pupiavati ho fatto Dante e ultimamente, di prossima uscita, l'orto americano con Sidney Sibilia, l'isola delle rose. Ho avuto la fortuna di lavorare direttamente, di avere dialoghi diretti cinematografici, con attori di livello, in particolare con Elio Germano e con Sergio Castelletto. Ho lavorato anche in fiction, serie televisive, in particolare nel Paradiso delle Signore e in Suburra Eterna. Per il resto spero di vedervi presto. Arrivederci.